Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio parlarvi di DAX7 su eBay e preparatevi perché sarà un bel casino. Prima di farlo però ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Ormai lo sapete che questo argomento l'ho affrontato su Subito e su Vinted. Ovviamente eBay è colpita come tutte le altre piattaforme del settore dalla direttiva DAX7 però come tanti di voi mi hanno fatto notare sul sito non ne parla assolutamente nessuno. E quindi che cosa mi è venuto in mente di fare? In teoria la cosa più logica se c'è qualcosa che non viene esplicato sul sito ma un utente vuole conoscere. Quindi contattare l'assistenza da un account privato quindi non un negozio. Pronto? Servizio clienti eBay sono Donald. Grazie Daniele per la conferma per la propria del tasso eBay. Dimmi. Ho letto un articolo che dal 1 gennaio del 2023 in tutta l'Europa è in vigore la DAX7 che prevede la compilazione di un modulo se un venditore privato come me fa più di 30 vendite all'anno oppure più di 2000 euro di vendite sempre durante l'anno. Volevo capire su eBay come funziona questo meccanismo. Un momento per favore. Grazie. Stato un momento Daniele per favore. Sì sì nessun problema. Ci devi pochi secondi Daniele perché è una questione che non è semplice diciamo. Mando adesso un email. Ho aspettato tantissimo tempo ma non l'operatore che mi chiamasse effettivamente ma la risposta alla mia domanda. Ogni due o tre minuti mi diceva aspetta ancora un attimo e poi passavano due tre e quattro minuti. Dopodiché mi riprendeva la chiamata ancora un attimo di pazienza e poi ripassava ancora del tempo. Io pensavo per informarsi anche se facendo parte del settore fiscale ho proprio fatto una domanda specifica rivolgendomi facendomi tutti i passaggi diciamo dell'assistenza per arrivare alla parte fiscale. Beh in realtà non è così perché la chiamata si è conclusa con l'invio di una mail da parte di questo operatore. L'assistenza nell'email ci tiene a precisare che la DAX 7 si applica agli operatori di piattaforme che facilitano attività rilevanti che inducono la vendita di beni, l'affitto di proprietà o di servizi personali. Questo però lo sapevamo già ormai ho spiegato in lungo e largo in che cosa consiste questa normativa. Il problema arriva nella frase dopo. L'operatore infatti continua dicendo che le informazioni richieste sono obbligatorie quando si registra un account professionale. Ma sulle altre piattaforme nessuno ha mai fatto una distinzione tra privati e professionisti. Prendiamo Vinted sono tutti privati in Italia eppure la DAX 7 la compilano tutti. Quindi come mai ebay fa questa distinzione? Non ha molto senso. Questa direttiva è nata per controllare tutti online. Sì anche i professionisti ma soprattutto i privati. Però continuiamo con l'email. Giustamente si prosegue con una precisazione importante ovvero che la direttiva non modifica gli obblighi fiscali ma saranno le autorità fiscali a decidere se i guadagni saranno tassabili o meno. Tutto ciò però come avrete capito va in contrasto con quanto detto fino ad ora. Cioè se sono un professionista le tasse le pago comunque non è lo stato a decidere se pago le tasse o meno. Le tasse vanno pagate a prescindere non c'è l'opzione di essere un professionista e non pagare le tasse. Ma una cosa molto particolare arriva subito dopo per chiunque vuole aprire già un account oppure ne ha già uno. A chiunque registri un nuovo account infatti non saranno richieste le informazioni sul proprio identificativo fiscale ed anche sulla sua stabile organizzazione. Tradotto in parole semplici penso che stia significare che non verranno richieste informazioni riguardo alla propria persona e alla propria azienda ma si continua dicendo che queste informazioni verranno richieste nel 2024 se si raggiungeranno determinate soglie di vendita. Ovviamente sappiamo tutti quali sono le determinate soglie di vendita o perlomeno quelle che dice la direttiva taxette poi qua ebay non so se interpreterà a suo modo. Si parla di 30 vendite o 2000 euro incassati però a parte tutte le stranezze un po' confusionarie fin qua forse più o meno tutto chiaro? No però proseguiamo. L'operatore continua scrivendo che contatteranno l'utente se avranno bisogno del codice fiscale e raccoglieranno l'eventuale partita IVA per ottemperare alla legge sulla trasparenza fiscale scritto oltretutto in tedesco perché poi si nomina la Germania senza un apparente motivo. L'operatore inoltre scrive che in genere come venditore individuale si dovrebbero pagare le imposte sul reddito sul profitto ma non tutte le vendite su ebay comportano l'imposta sul reddito. Viene specificato che se un venditore è residente in Germania e acquista un oggetto a 1000 euro per poi rivenderlo a 700 euro su quei 700 euro non dovrebbero essere pagate ulteriori tasse. Proseguendo con le stranezze precisa che un operatore di piattaforma è obbligato a comunicare i dati del contribuente tramite l'autorità fiscale dello stato membro di residenza dell'operatore di piattaforma. Per ebay si tratta delle autorità fiscali tedesche. Ebay quindi comunicherà le informazioni sui contribuenti alle autorità fiscali tedesche per tutti i venditori con sede nell'Unione Europea che svolgono un'attività rilevante nell'anno di riferimento in questione. Per quanto invece riguarda quei venditori che risiedono in un paese diverso dalla Germania saranno le autorità fiscali tedesche a condividere le informazioni con lo stato fiscale del venditore. Ok qua non so se sono deliri dell'operatore oppure ci sia qualcosa di vero ma da quello che ho capito ebay non comunicherà con lo stato italiano che anche qui boh ma vabbè comunicherà con lo stato tedesco lo stato tedesco raccoglierà i nostri dati perché non si sa e poi li comunicherà allo stato italiano. Vabbè comunque a parte questa bizzarra e strana risposta dopo prosegue forse con una cosa più interessante infatti viene comunicato che a partire dal primo gennaio 2024 verrà riportato l'importo totale delle vendite per tutte le transazioni di vendita dell'anno quindi se questa cosa è corretta e prendiamola per buona ebay non invierà il modulo DAX 7 nel 2023 ma lo farà il primo gennaio 2024 oppure dal primo gennaio 2024 penso entro la fine del mese. Una cosa però molto importante è capire che cosa viene conteggiato nella DAX 7 perché ebay è una piattaforma un po' diversa dalle altre quindi sicuramente tutti i soldi incassati ma è anche importante capire che cosa è escluso. Nell'email viene segnalato che sono escluse le commissioni di vendita pagate ad ebay IVA inclusa, i rimborsi entro il periodo ovviamente di riferimento e l'IVA riscossa da ebay. A me comunque non convinceva la risposta dell'operatore per email avete notato quanta confusione quante informazioni che mi sono chiesto ma perché mi le hai date non lo so e quindi ho voluto contattare un altro operatore via chat. La situazione purtroppo non è migliorata infatti dopo aver spiegato all'operatore in questione che avevo già contattato l'assistenza per avere delucidazioni su questa direttiva ed avendo fatto presente che nella direttiva stessa non si fa particolare riferimento alla partita IVA ma è stata studiata proprio per i privati purtroppo mi viene di nuovo fatto presente che la DAX 7 è solo per i professionisti. Io mi chiedo veramente come si possa essere così poco informati quando contatto l'assistenza nella sezione fiscale quindi vado per contattare l'assistenza ricerco la sezione fiscale quindi come vengono pagate le tasse tutto quanto clicco su non mi siete stati d'aiuto contatta l'assistenza e poi chat o telefono. Quelli dovrebbero essere operatori dedicati all'assistenza fiscale eppure ognuno dice una cosa diversa questa non si sa perché ma non capiva perché c'era la Germania di mezzo. Un casino totale ma non c'è due senza tre e quindi ho fatto nuovamente una chiamata all'assistenza ed ecco cosa è successo. Sì salve buonasera sono Mampuleta ebay grazie come ti posso aiutare allora? Vorrei un'informazione riguardante la DAX 7 che sarebbe la nuova direttiva europea. ebay la DAX 7 la considera solo per chi ha un account professionale però leggendo la norma e chiedendo il parere ad un commercialista mi ha fatto presente che questa norma in realtà è stata studiata per i privati e non per le aziende poi sicuramente saranno controllate anche loro ma è stata fatta apposta proprio per controllare tutti quei privati che vendono online l'unico problema è che ebay è solo per le aziende solo per chi ha una partenza IVA? Giusto sì è solo per le aziende all'omento sì Ah ok quindi Perché così ci è stato comunicato dallo Stato che all'omento questa procedura viene fatta soltanto per le aziende non per i venditori privati Ah ok ok ma dallo Stato italiano? Sì assolutamente Io se quindi con un account privato faccio qualche vendita sporadica ogni tanto non devo preoccuparmi di questo modulo qua? Giusto perché non hai ricevuto neanche una comunicazione da parte nostra quindi non c'è nulla da fare da parte tua nel momento che riceverai la comunicazione in quel caso lì sì però al momento non ti devi preoccupare appunto perché sia un venditore privato ovviamente che non c'è la partita IVA e per questo motivo non ti viene chiesto di fare qualche procedura in questo caso se ti verrà chiesto riceverai un contatto da parte nostra Finita questa chiamata veramente non ci volevo credere ho subito fatto una storia Instagram perché mi stava esplodendo la testa ma riprendiamo i punti salienti di questa chiamata sottolineando le cose importanti che secondo me l'operatrice mi ha detto Lo Stato italiano, sì avete capito bene proprio lo Stato italiano ha comunicato ad ebay che questa direttiva è solo per le aziende pertanto gli account privati non devono chiedere nessuna compilazione di nessun modulo Praticamente qua lo Stato italiano ha comunicato ad ebay un qualcosa che va contro la direttiva europea però l'ha comunicato solo ad ebay, alle altre piattaforme no quindi Booking, Airbnb, Vinted subito non hanno ricevuto questa comunicazione ebay è qua sulla privilegiata che ha ricevuto questa comunicazione tutte le altre si stanno sbagliando ad inviare i moduli ai privati ma non si sa, pazienza però una cosa importante secondo me mi viene riferita subito dopo perché l'operatrice dice beh tu sei un account privato non hai ricevuto nessuna comunicazione dalla DAX7 e assolutamente sì l'ho contattata da un account privato ho chiesto al mio amico se fossero arrivate delle email non sono arrivate nessuna email comunicazione riguardo alla DAX7 però dice una cosa secondo me importante appunto perché sia un venditore privato ovviamente che non c'è la partita IVA e per questo motivo non ti viene chiesto di fare qualche procedura in questo caso se ti verrà chiesto riceverai un contatto da parte nostra intenderà dire che sarà ebay a regolare chi deve avere una partita IVA o meno? mi spiego meglio da quello che ho capito tra le due telefonate fatte il contatto via chat e anche le cose che ho potuto leggere in giro sarà ebay a regolare chi effettivamente deve avere la partita IVA o meno sul proprio account e come fa? beh semplicemente capendo dal volume di vendite e dal volume dei soldi incassati se quella può essere un'attività sporadica oppure l'utente ha imbastito una vera e propria attività tra l'altro questa non è una novità succedeva già un paio d'anni fa l'ho letto su alcuni forum degli utenti chiedevano come mai ebay mi ha mandato una comunicazione dicendomi o chiudi l'account o ci fornisci il numero di partita IVA perché secondo noi stai vendendo troppo questa pratica messa in campo da ebay è corretta? secondo me assolutamente no perché ho già fatto i video sull'argomento ormai lo sapete tutti che booking, airbnb, vinted, subito e tante altre piattaforme non si rivolgono solo alle aziende quindi secondo me succederà un bel casino perché ebay nel 2024 quindi forse questa è una cosa appurata nessuno riceverà moduli nel 2023 ma verranno tutti inviati nel 2024 beh si renderà conto forse che questa non è solo una cosa per le aziende perché sì ci sono di mezzo anche le aziende la DAXET la devono compilare tutti privati e aziende ma non solo le aziende cosa succederà alla fine dell'anno? beh nessuno può saperlo perché nessuno di noi ha la palla di cristallo oppure viaggia nel tempo ma se ci fosse qualcuno di voi che ha queste abilità particolari lo scriva nei commenti ci facciamo un viaggetto nel tempo insieme vediamo così in anticipo cosa succederà scherzi a parte ovviamente potrebbero essere diversi gli scenari effettivamente ebay andrà contro la direttiva DAXET quindi non la farà compilare i privati e però poi che cosa succederà in un futuro? queste cose sono controllabili anche anni dopo quindi magari riceverà degli ammonimenti e poi lo stato arriverà in seguito? non si sa oppure ebay effettivamente si renderà conto di aver detto cavolate fino ad oggi e quindi inviderà anche il modulo a tutti i privati potrebbe facilmente essere ma lo vedremo tra diciamo dicembre 2023 e febbraio del 2024 io monitorerò ovviamente la situazione e vi avviserò su cambiamenti di linee da parte di ebay magari spunterà un articolo dedicato proprio sul loro sito chissà nel frattempo lo sapete già qualsiasi dubbio, domanda oppure riflessione su questa cosa lasciatemi un commento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti